Fumata nera per il primo consiglio comunale di Lecco dopo il rimpasto di giunta. Ieri sera all'avvio dei lavori, cinque consiglieri del Partito Democratico erano assenti. Al secondo appello i colleghi di minoranza sono usciti dall'aula, facendo venir meno il numero legale e rimanendo la seduta adatta da destinarsi. Malessere nella maggioranza di centro-sinistra, stando alle indiscrezioni, due dei cinque assenti erano giustificati. Il gruppo del PD inoltre non era al completo. La surroga di Roberto Nigriello, promosso assessore allo sport con Luigi Roshi, era il primo punto all'ordine del giorno e non ha potuto aver luogo. Se da una parte dunque gli intoppi non sono mancati, dall'altra i malrumori serpeggiano fra i consiglieri, sia per le scelte del recente rimpasto di giunta, sia per le imminenti elezioni per il segretario cittadino e provinciale del partito. E facendo saltare la seduta, le opposizioni hanno portato alla luce tutto ciò. Secondo Gianluca Corti, capogruppo di Appello per l'Eco, una forza della maggioranza, l'atteggiamento dell'opposizione è stato dai responsabili. Per un giochetto politico della minoranza, dichiarato, non è stato possibile svolgere il Consiglio Comunale. I lavori però sono iniziati e quindi per i presenti verrà erogato il gettone, così come per i dipendenti comunali che hanno prolungato il loro radio di lavoro. Il denaro, intorno a mille euro, verrà prelevato dalle casse comunali. Critiche fermamente respinte dall'opposizione. Tocca la maggioranza a garantire il numero legale, ha dichiarato Filippo Boscagli nel nuovo centrodestra. Maggioranza che non contava solo i cinque assenti, ma anche l'uscita dalla coalizione di Dario Spriafico di vivere l'Ecco. Per intoppio malumori, dunque, il Consiglio non si è tenuto. L'attacco più pesante giunge però dall'ex assessore all'ambiente Ezio Venturini, altro che marcia in più, dichiara, la maggioranza perde pezzi da tutte le parti, direttanti allo sbaragno senza un timone. La soluzione di missioni.